Uova? Eh? Uova in padella, uova? Eh? Uova? Sì. Allora, dieci uova. Tu le uova le mangi? Me le dai, me le mangio. Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche, te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Prendi queste dita, premi la mozzarella. Se colo il latte, te la pigli. Se no, desisti. O che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure cinque lire in contanti. E vai fuori, ti rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi mando Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare due litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no... Desisto. Desiste. O che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigni due sigari, uno per te e uno per me. E il resto?